che cosa ci possiamo aspettare da uno strumento che si chiama strumento sfoca beh in questo caso siamo di fronte a un pennello che non fa altro che sfocare le aree su cui noi andiamo a pitturare vediamo su un dettaglio ingrandito innanzitutto questo strumento ha un'intensità regolabile in questo momento io la tengo a 100 in maniera tale che vediamo bene quello che stiamo facendo è possibile dirgli di campionare tutti i livelli o solamente quello su cui stiamo lavorando in questo caso io tengo quello su cui stiamo lavorando anche perché ne ho uno solo comunque secondo me è meglio lasciarlo impostato su un solo livello perché altrimenti si va a fare pasticci su più livelli vedete che nel momento in cui vado a pitturare faccio più clic perché altrimenti lo prende come una pennellata unica vedete che quello che sto facendo è sfocare l'area su cui sto pennellando e questa fondamentalmente è l'unica utilità di questo strumento è buona cosa sapere che questo strumento funziona anche sulle maschere proprio come un pennello normale è possibile tenendo premuto contro le alt e cliccando sul mouse trascinando verso destra è possibile ampliare la dimensione del pennello e tenendo premuto sempre contro le alt e cliccando il mouse andando invece in alto in basso è possibile regolarne la durezza bene direi che per oggi è tutto spero che anche questo strumento vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima